Grazie di essere venuto. Ho trovato un lavoro. Ma buonasera, generale. Vedi, a me i ragazzi non piace affatto la tua compagnia. Se potessi portare il tuo culo da... Generale Ford. Il generale Ryle richiede la sua consulenza. Io ormai faccio copia fissa con lui, quindi grazie. Paga il mio conto. Quattro ore fa l'equipaggio da Lavander ha avuto un primo contatto. Fammi parlare col comando dell'Alleanza, è un'emergenza. Segnalo al comando, incidente da primo contatto. Loro ci credono ostili. Oh mio Dio. Credi davvero di essere pronto per questa missione? Che dimelo di nuovo. Ti sfido. L'operazione Peccato Cosmico è appena iniziata. Metti l'armatura. Ha schierato una bella combricola di cattivi. Hai mai gestito un salto quantico? Dovevo restare al bar. Se volete la pace, preparatevi alla guerra. L'ultima volta che l'ho sentito dire, l'hai usato come scusa per giustificare il lancio di una bomba Q su 70 milioni di anime. Appena saputo dell'avvenuto contatto, ha chiamato il generale Sanguinario. È un guerrafondaio. Li colpiremo duramente prima ancora che inizi la guerra. Ammientare un'intera civiltà è un peccato contro l'universo. Preparate una bomba Q. Nell'eventualità di un primo contatto, l'umanità deve attaccare per prima, per garantire la sopravvivenza della nostra specie. Non possiamo arrenderci. Qui nessuno si arrende. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti